Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per il ritorno dei pronostici di Serie B, giornata numero 24 Ieri è uscito dell'appuntamento e del cosa aspettarci in maniera un po' diversa Vi invito ad andarla a recuperare perché sarà così da qui a fine del campionato Io ho dato una bella novità e secondo me è molto interessante Oggi come sempre 5-6 partite da pronosticare Mi raccomando però, prendervi le partite Vi devo chiedere un pollicino in su qua sotto 30, 40, 50 mi piace per supportare i miei contenuti Un'iscrizione al canale totalmente gratuito ragazzi Mi raccomando iscrivetevi, questo è un canale che parla solo unicamente di Serie B E noi partiamo subito Partiamo col dire quali sono le partite che ho scelto Ci pronostichiamo ragazzi Pisa-Sampdoria Cittadella-Parma che può essere una gara interessante E soprattutto insidiosa per il Parma di Pecchia Como-Brescia è la terza partita Modena-Cosenza è una partita molto interessante E direi di chiudere con Cremonese-Reggiana Non perdiamoci in chiacchiere, incominciamo subito Incominciamo proprio da Modena-Cosenza Gara che mette di fronte un Cosenza in salute Che viene da buoni risultati Da 7 punti in 3 partite Una squadra rivitalizzata dopo le due vittorie consecutive Il pareggio, 11esimo posto in classifica 28 punti a fronte un Modena Nono, 432 punti A pari punti con Brescia, ottavo Per assurdo, per il Cosenza dovesse vincere questa partita Si proietterebbe in piena zona playoff E potrebbe veramente poi giocarsi le sue carte Da qui a fine stagione E questa è una partita interessante Anche perché il Modena Sembra aver passato il periodo negativo Ha vinto contro il Parma 3-0 Ha pareggiato la settimana scorsa Ragazzi, la sua partita Ha fatto 4 punti Quindi il periodo negativo alle spalle In rimonto, tra l'altro Con il Genoa Con, scusatemi, con la Samp Amarassi E quindi è una partita insidiosa per entrambe In pronostico è un X Un X1 Credo che il Modena possa vincere questa partita Ma credo anche che il pareggio Puesse essere risultato più probabile Vi dico anche che sicuramente Entrambe fanno un gol Proseguiamo con Pisa-Sampdoria Altra gara importante Entrambe sono appagliate 13esima e 14esima Quota 27 punti Entrambe ragazzi hanno solo 5 punti di margine Sulla zona play-out Ed è per questo che questa gara È determinante per il proseguo della stagione Chi vince si proietta a quota 30 punti Comunque può proseguire il suo percorso Verso magari un andamento Un po' più continuo Rispetto al girono di andata Entrambe comunque hanno l'obiettivo Secondo me di arrivare ai play-off Momentariamente distante 5 punti per Per tutte le compagini Il Pisa gioca in casa Farà una grande partita La Samp in trasferta È una squadra che comunque Sa metterti in difficoltà Il mio pronostico però è un pareggio Non vedo nessuna delle due squadre Favorita Proseguiamo con Como Brescia Como in casa Che gioca una gara comunque difficile Contro un Brescia in salute Che viene da una bella vittoria Di settimana scorsa Contro il Cittadella Per 2-0 Un Brescia di Maran Che sta giocando bene a calcio Un Brescia sempre in partita Un Brescia che riesce sempre a mettere in difficoltà L'avversario Lo farà anche a Como Secondo me contro la squadra di Roberts Che comunque viene da una vittoria Importante per 1-0 A Terni Dove ha dominato Dove poteva anche chiudere Con più gol di scarto Sicuramente ci sarà strefezze Un'arma in più Per Roberts E per tutto il Como Il mio pronostico è un 1 del Como Ma occhio perché il Brescia Potrebbe comunque portare a casa Un risultato Magari un pareggio Poi io credo che il Como Vincerà questa partita Chiudiamo con Cittadella Parma E Cremonese-Reggiana Cremonese-Reggiana Vi dico gol Entrambe vanno a segno Sicuramente la Cremonese Parte favorita E può vincere Quindi vi dico anche Uno della Cremonese Ma occhio perché la Reggiana È una squadra capace Di mettere in difficoltà Chiunque Vive un buon periodo Fatto di 3 pareggi E 2 vittorie Nell'ultimo 5 Con tanti punti raccolti Un decimo posto consolidato Con 29 punti E comunque con un ottavo posto Ad oggi Distante solo 3 punti Per la squadra di Nesta Che si è rinforzata Anche a gennaio E che ha qualità offensive Importantissime Mi credo che la Cremonese In casa faccia una partita Bella Sicuramente Creerà tante occasioni Da gol Mettere in difficoltà La Reggiana Ed è per questo Che vi dico Uno della Cremonese Chiudiamo Con Cittadella Parma Il mio pronostico È un pareggio Secondo me Il Parma capolista Non vince Contro il Cittadella In casa del Città Occhio perché La squadra di Gorini Viene da 3 sconfitte consecutive Potrebbe assolutamente Arrivare anche la quarta Ma credo che un pareggio Sia il risultato Più Che mi sento di dirvi Per questa partita Perché il Città In casa È una squadra ostica Da affrontare Fatemi sapere la vostra Qui sotto con un commento Pollicione sul video Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo A un prossimo contenuto Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti